E questo per me è un onore, perché continuare a giocare contro Carlo vuol dire che entrambi continuiamo a essere in questo campionato e questo per lui è una continuità, per me è una conferma, quindi io sono onorato di giocare sempre contro Carlo. Mi fa ovviamente sempre effetto come fosse la prima. Mi faccio un grosso in bocca al lupo, ovviamente, e si merita, secondo me, di stare in questo campionato qui. Sarà una stagione complicata per entrambi, però, insomma, il bello è giocarsela, quindi l'emozione che ti dà il campo quando sei uno contro l'altro, poi alla fine, oltre all'amicizia che ci lega, c'è anche il discorso della sportività e dello sport in sé, quindi è tutto entusiasmante.